Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebby, oggi ritorniamo a fare la recensione su un fumetto e per me è un grande piacere e un grande onore presentarvi Iron Man. Attualmente per me, secondo il mio giudizio, questa è la miglior testata Marvel e dopo naturalmente Daredevil perché per me quello lì è intoccabile. Ragazzi, sono contento di questa nuova run che è partita a dicembre 2020 qua in Italia. La nuova run è stata presa in mano da Christopher Cantwell ed è disegnata da Cafu con dei disegni veramente eccezionali. Sono usciti finora 5 numeri, li potete recuperare ragazzi facilmente sia in fumetteria che sul sito Panini, dove tra l'altro vi fanno anche uno sconto del 5%, costano tutti 3 euro. L'ultimo, quello che è uscito ora ad aprile, costa 5 euro perché c'è una storia in più. Allora ragazzi, io non ero molto soddisfatto di come è stato gestito il personaggio negli ultimi anni durante la run da slot perché si era un po' perso l'essenza di quello che era Iron Man, di Tony Stark soprattutto. La tematica nella precedente run verteva su uno scontro diciamo anche fra esseri umani e macchine con sempre questa voglia di richiamare i loro diritti. Il villain con cui si scontrava Iron Man addirittura era una scheda madre e quindi diciamo gli scontri avvenivano anche in un ambiente virtuale. Insomma ragazzi, come vi ho detto anche nel video scorso, sono contento che in America ci siano questa gestione dei personaggi, quindi dopo uno o due anni poi si riparte normalmente e si riscrive il personaggio ed è quello appunto che in questo momento sta facendo Christopher Cantwell, cioè ha riportato veramente Tony Stark al centro del fumetto. Ci presenta un Tony che vuole farsi accettare dalla società. Ragazzi, Tony Stark come sapete è un milionario egocentrico, ha creato questa sua armatura di Iron Man, è diventato un Avengers, ma non è mai stato tanto amato dal punto di vista, possiamo dire, anche mondiale. Tony stavolta vuole farsi accettare dagli altri. Cerca di fare delle cose per bene, per meglio, ma ragazzi gli viene sempre sbattuto in faccia quello che la gente pensa di lui. Per esempio, lotta contro dei villain nei primi numeri, alcuni, per esempio faccio solamente il primo, il Terrax, lo porta per esempio al di fuori dell'atmosfera terrestre, lo schianta contro un satellite artificiale e appena torna, che ha sventato questa minaccia, gli viene presentato il conto del satellite. Lui partecipa anche sui social e tanti gli dicono, guarda, per colpa tua io non ho perso la partita perché ero distrutto il satellite, non ho perso il collegamento. Ragazzi, sembra che qualsiasi cosa faccia Tony Stark per farsi accettare da tutti va sempre male. Non riesce, diciamo, a cambiare per come lo vedono le persone. Come spalla in questa nuova run troviamo un personaggio per me veramente azzeccato, molto piacevole da vedere. Sto parlando di pezzi Walker, che è Hellcat, che gli fa una sorta di personal trainer, gli fa fare anche degli esercizi di respirazione a Tony Stark, ma lui non riesce a far smettere alle sue rotelline in testa di girare. È un genio, quindi lui deve sempre pensare, pensa sempre a qualcosa. Vediamo un Tony Stark che viaggia anche, prende l'aereo e viaggia in economica, per esempio, invece che in prima classe. E si sorprende del fatto che la distanza che tra un seggiolino e l'altro sia così poco, non può reclinare lo schienale prima ancora di partire in volo. Si sorprende di tante cose che lui non aveva magari mai notato. C'è una scena anche abbastanza toccante in cui Tony Stark va a trovare dei bambini in una scuola. Nel tempo lui faceva un giro di ricognizione con la sua armatura. I bambini in quel momento sembrano gli unici che vedono ancora in Iron Man un supereroe. C'è questa scena bellissima, interrotta subito poi dagli insegnanti che gli vanno incontro e gli dicono che lui ha turbato in quel momento la quiete dei bambini e che se lui deve venire a fare visita alla scuola deve prima chiedere il permesso a loro e poi venire. Ma ragazzi, anche questa scena è veramente paradossale. Il nuovo cattivo, stavolta di questa nuova run, perché non voglio che questo video duri troppo, il nuovo villain è veramente terribile. si chiama Corvats, così come vedete qua il titolo del numero 3, il piano di Corvats, è un villain che è addirittura in grado di convogliare su se stesso tutta l'energia, magari anche dei fulmini. C'è una scena molto bella anche, dopo quando vi faccio vedere le tavole ve la mostro, in cui lui per assorbire tutta l'energia di New York si mette in una sorta anche di croce, perché il suo intento è come quello che vorrebbe diventare un dio, perché nei suoi piani addirittura c'è anche quello di raggiungere la nave spaziale di Galactus, quindi ragazzi vedete un po' quando è anche articolata stavolta la trama. Quindi si mette in croce come Gesù Cristo e subisce questa scarica, questa scarica eletta e assorbe tutta l'energia elettrica che c'è a New York. Ragazzi, forse non dovrei dirvi di più, vi faccio allora vedere qualche tavola, magari cominciando anche dal numero uno, perché fra, diciamo, questo rinnovamento del personaggio di Iron Man c'è, tra l'altro Christopher Cantwell è anche la passione per le macchine, quindi se siete appassionati di macchine, qui vedete, trovate anche pane per i vostri denti, perché c'è un Tony Stark che magari partecipa a una corsa clandestina per trovare anche un po' il brivido. Questa è l'armatura di Iron Man, la nuova armatura più leggera, con questi led. Poi questa è Hellcat, come vi dicevo, Betsy Walker, un altro supereroe naturalmente, come Iron Man, che gli fa da spalla, molto bella e affascinante. Continuiamo questa carellata di tavole, di Cafu. Vi faccio vedere, ecco, questo per esempio è Corvaz, perché lui si è fatto costruire questa sorta di involucro, dove risiedere, di forma umana, una sorta di cyborg, diciamo, d'accordo? Vi faccio vedere qui i tentativi di tecniche, diciamo, di rilassamento che attua Hellcat. Vabbè, Tony Stark è poi in tutti i modi, cerca naturalmente di farsi apprezzare, di salvare la gente, qualsiasi tentativo va male. Vi faccio vedere, velocemente così, recuperiamo anche il numero 3 che è uscito. L'immagine, questa qua bellissima, in cui Tony Stark atterra in questa scuola, dove viene accolto dai bambini. Cosa vi faccio vedere poi? Vi faccio vedere la scena in aereo, di cui vi ho parlato, bellissima, Betsy Walker. Ragazzi, che ci volete fare? C'ho un debole per questo personaggio, mi piace tantissimo. Qui c'è la scena in cui effettivamente poi si scontra con Corvaz, perché non ve l'ho detto, ma lui approccia nel primo numero durante una festa. Anche questo qua potrebbe essere un classico, no? In cui gli dice che riesce a catturare l'energia di un fulmine, in quel momento Tony Stark non era interessato, poi va a vedere effettivamente, ma era una trappola, ragazzi, e quindi vedete poi alla fine come gli finisce. Ma a farne le spese non è solo lui, a farne le spese naturalmente sarà anche Elkhart. Naturalmente non voglio dirvi troppo, però Elkhart, poverina, verrà sfigurata, e vi faccio vedere anche in che modo, ma secondo me non perde assolutamente la sua bellezza. Anche lei è un personaggio che ha avuto problemi anche psicologici in passato, però sta di fatto che in questo momento è anche la nuova spalla, la nuova amante di Tony Stark. Allora ragazzi, vabbè, vi faccio vedere appunto quella scena qui dove, vedete questa qua, assomiglia quasi a una croce, dove si pone Corvaz. Qui, vedete la scarica riesce anche qua, come è posizionato lui, ragazzi, secondo me mi richiama con mani in croce, sorta di corona volendo, qui invece c'è un casco per l'elettricità, con qualcosa infilato nel costato, anche qui mi ricorda un pochino la scena classica, e qui appunto, scena bellissima questa qui, in cui si assorbe tutta l'energia della città di New York. Questo era il numero quattro. Il numero cinque, invece, che è uscito questo mese, si concluderà con un colpo di scena, ragazzi, c'è anche una parte un pochino più comica in cui Tony cerca di costruire una squadra, diciamo, di supereroi un pochino più, meno conosciuti, diciamo, perché in breve tempo deve mettere da parte una squadra. Ragazzi, questa immagine già fa ridere da sola, no? Cioè, vedere questi personaggi che rappresentano Scarlet Spider, che è una sorta di, la coppia carbone di Spider-Man, no? Qualcun altro come Gargoyle, che invece attualmente è un proprietario di un ristorante, qualcun altro invece fa parte di un'agenzia investigativa, e un'altra ancora fa il cameriere, diciamo, in un ristorante, come questo uomo rana, però ragazzi, veramente, sempre una squadra di scappati di casa. Beh, a differenza invece di quella di Corbaz, in cui ha veramente degli, vi faccio anche qualche altra tavola, invece ha veramente degli uomini di valore, come l'unicorno, e di dicendo. E qui vediamo qualche storia anche del passato di Patsy Walker, in cui ha subito degli, una sorta di, di elettroshock, e ragazzi, niente, si conclude questo numero veramente con un colpo di scena finale straziante, un Tony Stark che in questo momento ha toccato il fondo, sembra apparentemente distrutto, forse addirittura anche con una lesione a livello, a livello cervicale, e quindi lo dovrebbe rendere paralitico, ma questo è ciò che sembra, eh. Sta di fatto che ora devo stare un altro mese col fiato sospeso, perché non so veramente come finisce, come va avanti, perché ragazzi, il bello è anche questo qua, dei supereroi americani, può succedere veramente di tutto, qualsiasi personaggio può morire, qualsiasi evento può succedere. Allora ragazzi, mentre la storia, brevemente vi racconto di questa che viene inclusa qui, si parla di Iron Man e del Dottor Destino, una storia che è fuori, naturalmente fuori run, è scritta sempre da Christopher Cantwell, ma disegnata da Salvador Larroca, è una storia che non ci credete, ma c'è Babbo Natale. Vediamo un giovane, Tony Stark, con suo padre, che ragazzi, pensate un po', gli regala, da piccolino, gli regala un grattacielo, anzi, gli regala un palazzo che è il Johnson & Bernstein Building, e lui, quando vede gli occhi chiusi, poi li apre, gli dice, oh grazie papà, dice, non devi ringraziare me, lo sai che te l'ha portato Babbo Natale, no? Dice, ma, dice, so come funziona papà, dice, no, no, Tony dice, no, se vuoi ignorare la magia del mondo, fa pure, gli dice suo padre, sappi solo che diventerà tutto freddo e grigio. E quindi, ragazzi, tutto si giocherà su questo fatto di tutto freddo e grigio, perché poi alla fine, senza stare qui a dirvi troppo, arriverà in uno scontro con Iron Man e il Dottor Destino, veramente un personaggio che assomiglia in tutto e per tutto a Babbo Natale, alla fine riusciranno a risolvere la situazione, naturalmente, entrambi, poi vi faccio vedere ancora qualche altra tavola, perché anche queste qua sono, naturalmente, bellissime, meravigliose, e alla fine si chiedono fra loro due, fra Tony Stark e Dottor Destino, se è quello che veramente, poi si capisce anche l'identità, ma non sanno se effettivamente lui potrebbe essere Babbo Natale, sul serio, no? E c'è il Dottor Destino, Victor Van Doom, che cerca una soluzione, diciamo, razionale, una spiegazione razionale a quello che hanno vissuto, e Iron Man, alla fine se ne va, ve la posso fare vedere, perché comunque non c'è un particolare spoiler, non ignorare la magia del mondo, Victor, no? E quindi, ragazzi, anche qui, qua saprebbe anche un discorso lungo, che non voglio naturalmente fare, perché, ragazzi, non ci dimentichiamo della magia che rappresentano questi fumetti per noi, no? Se no sarebbe veramente tutto freddo la nostra vita, no? Quindi i stessi fumetti, la potremmo vedere anche come un'allegoria da questo punto di vista, i fumetti ci rendono magico la nostra esistenza, no? I libri, i fumetti, e vi dicendo. Va bene, ragazzi, con questo io ho concluso, penso di aver fatto abbastanza troppi minutaggi con questo video, se vi è piaciuto, vi è sembrato utile, mettete un like, iscrivetevi al canale, ora io vi metto sia il bottone qua in basso a destra, in più aggiungo anche delle playlist, così a fine video, se qualcuno vuole recuperare le vecchie recensioni, può farlo tramite le playlist. Noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao!